Questo è il concetto di spazio che è implicito nel razionalismo moderno, che nasce dentro lo spazio vuoto. Tutti gli universalismi moderni nascono dal fatto che si pensa allo spazio come privo di qualità. E dunque vi sono alcuni vettori della nostra civiltà che possono irradiarsi indisturbati in tutto il mondo. Questi vettori sono la scienza, la tecnica, l'economia capitalistica, la morale, il diritto. Un'idea di spazio completamente diversa, completamente diversa, insieme a un'idea di tempo completamente diversa, si afferma davanti a un processo, a un fenomeno, che questa idea di politica, con questa idea di spazio e questa idea di tempo, non riesce a comprendere, a tenere sotto controllo, a metabolizzare. Con questa idea di spazio, di tempo, si metabolizza la scoperta dell'America, non si metabolizza la guerra civile della religione, che è un'idea che dalla guerra civile della religione viene travolta. Ma prima di arrivare a questo, che è la modernità, c'è una politica fondata sopra un altro spazio e un altro tempo, merita un'osservazione invece, merita un'osservazione invece, la concezione dello spazio in Machiavelli. Perché? Nello spazio politico. Perché anche in questo caso, anche sotto questo punto di vista, si rivela la curiosa posizione di Machiavelli, la inedita posizione di Machiavelli, non più cristiano, non ancora moderna. Diciamo meglio, perché dire non ancora sembra che gli manchi qualche cosa. Certo, gli manca qualche cosa sotto il profilo empirico, gli manca l'esperienza delle guerre civili della religione d'Europa, gli manca per il buon motivo che muore prima. Il che fa sì che la sua modernità indubbiamente presente non sia la modernità, diciamo così, mainstream, con la quale ci siamo confrontati per 300 anni abbondanti. Dove sta lo spazio politico per Machiavelli? Lo spazio politico per Machiavelli sta nel pullulare di forme politiche post-imperiali, post-romane, post-imperiali, che hanno dimensioni da prima piccole e poi via via crescenti, il che per lui è un problema. Perché quanto più diventa grosso lo Stato, tanto più può fare, è un modo di ragionare curiosissimo, può fare la guerra senza correre un rischio esistenziale e quindi può fare guerra affidandosi alle milizie mercenelle. Cosa gravissima, perché tecnicizza e depoliticizza la guerra. Ma questo è l'aspetto più ovvio, quello su cui tutti richiamano l'attenzione, giustamente, cioè Machiavelli ha un'idea di politica di carattere municipale o al massimo di carattere regionale. Non arriva a pensare lo Stato perché quello che vede, cioè la Francia, gli fa capire che dentro lo Stato la politica cambia natura e il primo modo di cambiamento della natura che lui vede è il fatto che la guerra diventa qualche cosa che viene certamente affidata all'oro e non alla virtù. E quindi lo Stato fa guerra in modo tecnico e non politico. Lo spazio è nemico quindi della politica intesa come esercizio della virtù che è anche esercizio in prima persona della guerra. Mentre la cosa su cui voglio richiamare la vostra attenzione è che per Machiavelli esiste uno spazio politico, uno spazio intrinsecamente politico. Mentre lo spazio dello Stato è uno spazio tendenzialmente non politico, è troppo grande insomma, esiste uno spazio politico che è là dove Machiavelli parla della caccia. Ecco, sembra incredibile, ma è la caccia quella che costituisce la trama dello spazio politico secondo Machiavelli. Lo trovate nel quattordicesimo capitolo del Principe, lo trovate nei discorsi al capitolo 39 del terzo libro. Che cos'è la caccia? È l'addestramento che il Principe deve fare su se stesso per essere in grado di interpretare il territorio dal punto di vista militare. Il Principe va a caccia sia per rafforzare il corpo, poi perché la caccia è lo sport nobiliare, sì certo, ma va a caccia perché in questo modo conosce, impara a conoscere il territorio dal punto di vista della militarizzabilità del territorio. Dunque, questo grande anti-umanista, Machiavelli, nel territorio non vede i paesaggi dolcissimi di Perugino e di Raffaello. Vede se un certo fiume può essere guadato e dove, se un certo colle può essere superato da un esercito e come, se una certa pianura può diventare un campo di battaglia e dove è più utile schierare l'accampamento e organizzare le difese e gli attacchi. Questo è lo spazio politico, cioè lo spazio interpretato in vista della guerra. senza la ipoteca nazionale che vedremo sarà propria dei geografi tedeschi dell'Ottocento che, costretti dalla conformazione geografica della Germania, interpretano lo spazio in chiave politica perché non lo posso interpretare in chiave naturale, quanto la Germania non ha praticamente confini naturali. Senza quella preoccupazione di fissare lo spazio di una nazione, Machiavelli non ce l'ha, ma con la preoccupazione di fissare lo spazio che è in sé dequalificato come uno spazio utilizzabile dalla virtù politica in armi. Questo è qualche cosa che è impressionante per la sua potenza concettuale, cioè qui non c'è più l'universalismo, non c'è più il tempo del cristianesimo, c'è il tempo contratto della guerra e c'è lo spazio del conflitto. È impressionante e non lo troveremo più. Noi, in età moderna, troviamo un altro spazio e un altro tempo. Un altro spazio che, come vi dicevo, nasce dalla dequalificazione dello spazio. Certo, uno spazio universale, ma tanto diverso dallo spazio universale imperiale, dallo spazio universale degli imperi, dallo spazio universale dell'impero sui generi, che è la Chiesa. Uno spazio universale non pieno, ma vuoto, che è lo spazio di Hobbes, che è lo spazio di Locke. Come vedete, stiamo andando molto avanti. Perché? Ma perché siamo davanti a una rivoluzione concettuale della politica, una rivoluzione concettuale che nasce dalla esigenza di uscire dal disgregarsi, sanguinoso della spazialità tradizionale cristiana, che si disgrega sanguinosamente in più di cento anni di guerre civili in Europa, dalle quali si apprende che Dio non è più il fondamento, ma è lo sfondamento, che Dio non è più il metron, la misura che dà ordine allo spazio e al tempo, ma è la causa del disordine più radicale, la causa della morte violenta. Ci vogliono più di cent'anni per trovare il modo per uscire da questa angosciosa, cioè tutto ciò che abbiamo imparato per la nostra salvezza produce la nostra dannazione, la nostra sconfitta, la nostra morte. Le risposte intermedie, le risposte scettiche Montaigne sono ben comprensibili ovviamente. Lì, da Montaigne in poi, nascono le linee di pensiero libertino, scettico, che ci dicono che non c'è da credere più a nulla di quello che ci è stato insegnato. Ci insegnano il relativismo. Pensate al capitolo sui cannibali di Montaigne, una cosa impressionante. Loro saranno cannibali e non che cosa siamo. Quali sono i nostri vizi e i nostri peccati? Ciascuno ha i propri. Pensate al motto un meridiano decide della verità, però tutto ciò non fa ordine. Tutto ciò è la sconsolata presa di consapevolezza che c'è il disordine, che non abbiamo più né uno spazio né un tempo solidi su cui fare affidamento, che la politica è un inferno. E poi c'è invece la grande rivoluzione concettuale, proprio un modo diverso di pensare alla politica che è in un modo di, che non è il modo di Machiavelli, troppo bello, è il modo molto più triste di Hobbes e di Locke. La politica moderna diventa una triste scienza certamente, una triste scienza dell'ordine, un ordine che è spaziale, che è temporale. Allora, vediamo di dare le indicazioni fondamentali a questo riguardo. Cosa succede? Dal punto di vista temporale c'è uno svuotamento del tempo, non c'è la capacità non c'è la capacità di dire la partizione cristiana del tempo è insensata, nessuno avrebbe potuto dirlo, nemmeno nella seconda metà del XVII secolo, no. Però c'è l'idea che il tempo ha certamente origine da Cristo, certamente si conclude con il ritorno di Cristo, ma quello che c'è in mezzo è un vuoto, non è un pieno. Non ci sono garanzie, non ci sono sviluppi intrinseci, ci dobbiamo arrangiare, cioè il tempo è un'epoca, senso proprio, una sospensione, una sospensione del senso, il tempo è privo di senso proprio, glielo possiamo dare noi, glielo possiamo dare noi con la nostra civilizzazione. Ecco che dal tempo vuoto, dal tempo in cui c'è soltanto l'idea di un inizio, l'incarnazione, una fine, il ritorno del regno di Dio e in mezzo non c'è nulla, in quel mezzo, in quella epoca, in quella sospensione possiamo costruire qualche cosa, possiamo costruire il progresso politico, sociale, economico della civiltà nostro, nella nostra capacità. Se stiamo a certe regole tecnico-scientifiche, perché soltanto se stiamo a queste regole tecnico-scientifiche razionali, facciamo qualche cosa di diverso dall'ucciderci gli uni con gli altri per motivi religiosi, solo a questo patto. Questo è il razionalismo politico moderno con la sua idea di tempo. Esiste il progresso, ma il progresso esiste solo a patto che svuotiamo la narrazione cristiana di ogni contenuto ontologico. Ci accontentiamo di sentirci dire che c'è stato l'evento di Cristo, che ci sarà un nuovo evento. Ecco, in mezzo meno valori portiamo, meno pretese portiamo, meno idee portiamo, meglio è. Riduciamo le nostre aspettative, costruiamo con la ragione delle società politiche che hanno un obiettivo basso, l'obiettivo della conservazione della vita e dell'incremento dell'utile economico individuale e combattivo e questo se facciamo le cose fatte bene, che vuol dire sostanzialmente se neutralizziamo per quanto è possibile le pretese di senso che vengono dalla religione, se le neutralizziamo, beh, possiamo costruire un percorso di progresso. tutto umano e lo spazio? Ci dimentichiamo lo spazio pieno, ricco di miracoli, di mostri, ci dimentichiamo tutto ciò. Pensiamo allo spazio come a una dimensione di uguale desolazione, un deserto privo di qualità. Attenzione, questo è il passaggio fondamentale, un deserto omogeneo privo di qualità, vuoto, uno spazio in cui non ci sono sorprese, in cui non ci sono miracoli, uno spazio in cui non c'è altro che piattezza e disponibilità. Perché se è piatto, se è deserto, non c'è nulla da rispettare, nulla davanti a cui meravigliarsi, non c'è nulla da a cui riconoscere una qualità. C'è solo quantità. Lo spazio come pura dimensione dell'estensione è lo spazio modesto. In questa estensione l'America e l'Europa sono dal punto di vista teorico uguali. Fin qui uno dice beh, è Vittoria. Certo, con la differenza che in Vittoria questa uguaglianza era nel nome della pienezza. Nella testa di Hobbes e di Locke questa uguaglianza spaziale è nel nome del vuoto. L'Europa e l'America sono dal punto di vista spaziale teoricamente la stessa cosa. Si dà il caso che l'America sia abitata da poveracci, da poveracci, da indianini sparuti come quello che era figurato nel frontespizio del Decire, sparutissimo con il suo arco a tracolla magro con scritto sotto Libertas. ecco che cos'è lo spazio è il luogo in cui vagano individui. Questi individui o sono capaci di uscire dalla natura, dallo spazio naturale, o ci restano. Se ci restano sono come gli indianini del Decire, miserabili, se non ci restano nello spazio, non è che si inventano uno spazio migliore, non si prendono le allucinazioni, gli allucinogeni per migliorare la loro esperienza dello spazio, abbandonano lo spazio naturale e entrano nello spazio artificiale della civiltà, che ha come unico scopo quello di consentire all'individuo, i capaci di questo salto, di impadronirsi meglio e più efficacemente dello spazio naturale. non è che ha qualche altro scopo, ha lo scopo di rafforzare la società umana, rendendola capace di non essere preda della guerra intestina, della guerra civile, e di espandersi negli spazi neutri che sono il comune spazio dell'umanità su tutto il globo. Universalismo spaziale per svuotamento con abbandono dello spazio della natura per entrare nello spazio della civiltà allo scopo di impadronirsi meglio dello spazio della natura. Chi lo sa fare vince, chi non lo sa fare muore di inedia o prima viene conquistato da qualcuno più bravo di lui. Il punto fondamentale è che tutto ciò non si fonda sulla differenza tra l'Europa e l'America. L'Europa e l'America sono uguali, solo che l'Europa è più evoluta, è più progredita secondo una logica lineare artificiale della temporalità. Lineare artificiale, di una temporalità svuotata. E non solo, l'America può ripresentarsi continuamente in Europa. cioè l'Europa è sempre a rischio di tornare ai livelli americani. Come? Facile, con la guerra civile. con la rivendicazione della libertà naturale, questa assurdità, dice Hobbes, o con la rottura del trust fra la società e la politica, dice Locke. Cioè c'è un rischio intrinseco alla civiltà artificiale europea, un rischio intrinseco che essa se non controlla bene scientificamente il proprio esistere è essa ripiombi nel deserto spaziale da cui proviene, di cui l'America non è che un esempio. Noi non siamo migliori degli americani, siamo più progrediti nelle scienze e nella tecnica per vari motivi fra cui il cristianesimo, certo, ma insomma siamo più progrediti, ma non ci mettiamo niente a tornare come loro, da una parte, dall'altra è, dall'altra più siamo capaci di conoscere la nostra posizione nel cosmo, la nostra posizione nello spazio, la nostra posizione nel tempo, togliendoci strane idee dalla testa, eliminando il pensiero qualitativo, entrando nelle logiche dello spazio vuoto, del tempo sospeso, più siamo capaci di questo, più siamo capaci di dominare quantitativamente il mondo, cioè siamo capaci di vedere una foresta e vederci invece una segheria, siamo capaci di vedere la meraviglia dell'Africa intatta e di impiantarci invece con l'aiuto degli arabi un fiorente commercio di schiavi o una fiorente ricerca delle ricchezze naturali nascoste nel sottosuono. Siamo capaci di guardare a ciglio asciutto le meraviglie della civiltà cinese, di non meravigliarci in alcun modo davanti ad esse e tentare di prostrarla portandoci l'oppio. Siamo capaci di desolare il mondo e di conquistarlo togliendo ogni differenza fra noi e loro e proprio perché col togliere le differenze fra noi e loro possiamo istituire una gara in un terreno completamente appiattito ben battuto una gara che saremo sicuri di vincere perché siamo più efficienti.